Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha deciso di celebrare la conclusione del suo tour con uno scatto provocante condiviso su Instagram. Nella foto si mostra in una posa plastica seduto sul letto, completamente nudo, mentre fuma uno spinello, e con un sorriso ammiccante rivolto all'obiettivo. Questo post rivela sia la fine del Loud Kids Tour che i progetti futuri di Damiano. Tuttavia, Lazza, un collega di Damiano, sembra non essere d'accordo con questa scelta e lascia un commento sarcastico sotto la foto, mostrando il suo disappunto verso il cantante che sfida le regole di censura. Damiano David ha scritto nella didascalia del post, il tour è finito. Significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno. Questa dichiarazione esplicita le intenzioni di Damiano sia nel presente che nel futuro. Per evitare la censura, la foto è stata salvata grazie all'adesivo di un cuore nero, posizionato strategicamente per coprire le parti intime del frontman dei Maneskin. Nonostante ciò, la foto ha ricevuto migliaia di commenti da parte dei fan della band italiana famosa in tutto il mondo. Lazza, in un gesto ironico, ha lasciato un commento sotto la foto che sta per raggiungere un milione di like. Stai sempre ci asterisco asterisco all'aria O. Questo commento ha ottenuto quasi 8000 like da parte degli utenti, dimostrando che la posa provocante di Damiano non ha convinto tutti. Lazza ha chiaramente mostrato la sua disapprovazione. Per il momento, Damiano non ha risposto pubblicamente al commento di Lazza. Tuttavia, centinaia di fan si sono affrettati a intervenire sotto il commento del cantante cenere, difendendo Damiano e rispedendo indietro le critiche velate di Lazza. Grazie. Grazie.